Ciao a tutti ragazzi, qui è TBlackGame, bentornati a questo mio nuovo video. Oggi sono qui non per mostrarvi i posti segreti, ma sono qui per parlarvi del nuovo pacchetto mappa di Call of Duty Modern Warfare 3 che si pensa uscirà il 24 gennaio 2012 per Xbox 360 e per la Playstation 3 invece il 24 febbraio. Non è ancora sicuro perché ad esempio su Black Ops per la Playstation 3 uscivano un mese dopo, come per il computer, mentre per l'Xbox uscivano un mese prima. Questo pacchetto mappa non è ancora sicuro però, conterrà 4 mappe. La prima è Park, poi c'è Italy, poi Overwatch e poi Morningwood. La mappa Park, che è la mappa che ci sarà sicuramente, infatti è stata pubblicata un'immagine, a me ricorda la mappa Zoo, la mappa Zoo di Black Ops. Non so come mai, forse per quella cosa al centro. E poi sullo sfondo si possono vedere degli edifici che ricordano una missione di Call of Duty Modern Warfare 3, ma non mi ricordo qual'era la missione. La mappa Italy invece, la nostra, finalmente qualcosa si ricorda di noi, la mappa Italy invece ricorda molto la mappa Favela di Modern Warfare 2, oppure la mappa Villa di Black Ops, sì, dovrebbe essere Villa. Questa, infatti tanti, sono abbastanza contrarie a questa mappa, perché pensavano proprio che fosse una favela, invece non si sa ne ancora cosa sarà, si spera qualcosa di molto carino, veramente, perché sicuramente sono sempre 15 euro che scoccia a spendere, le mappe, ecco, si pensa che verranno sui 14 euro e 90, 15 euro, e d'altronde scoccia a spenderli, però adesso sto pensando se comprarle o no, perché d'altronde, comunque, vabbè, la mappa Overwatch, passiamo alla mappa Overwatch, che si ha un'immagine, ma queste ultime immagini da parte park non sono sicure, comunque la mappa Overwatch ricorda un po' Ardat di Modern Warfare 3, ma vista dall'alto, a causa di quel cantiere, di quell'edificio, che la ricorda molto. Su questa mappa non posso tralasciare molte parole, però, se è vero che c'è questa mappa, mi sembra già una cosa molto carina vista da questo punto. Infine c'è la mappa Morningwood, che ricorda un po', diciamo, Bailout, Bailout, di Modern Warfare 2, una mappa dei pacchetti mappa di Modern Warfare 2. Io questa mappa non l'ho mai provata, l'ho solo vista a casa di un mio amico, e devo dire che la prima impressione che mi ha fatto questa mappa è stata proprio Bailout. Magari la casa al centro mi ricorda, cioè la casa che si vede mi ricorda un po', non lo so, Nuketown, però su questa mappa non c'è molto da dire, non si capisce neanche il luogo dove ci troviamo. Infine è stata tralasciata il nome di un'altra mappa, ma non è ufficiale. Io ve la nomino Cement, Cemento, Cemento, ma non è ufficiale, non si hanno neanche immagini, quindi per questa mappa fate finta che non l'abbia neanche nominata. Allora, volevo dire, poi all'inizio si pensava che dovesse uscire un altro pacchetto, chiamato Nostalgic, che doveva contenere delle mappe dei vecchi Call of Duty, ossia doveva contenere Terminal, Igrise, Favela, Shipment di God 4 e Crossfire di God 4. Shipment è una mappa piccolissima, ci giocavo su computer nei server privati in 46, ci giocavo, stavamo 20 contro 20, se non di più, e mi ricordo che lì avevi una granata, non uccidevi 7, 10, tantissimo. Comunque, questo, non dovrebbe uscire questo pacchetto mappa, bensì l'altro. Il gameplay siamo, abbiamo appena superato la metà, forse siamo già più avanti, allora volevo spendere due parole sul gameplay, e mi trovo in una partita su guerra terrestre, guerra terrestre, uccisione confermata, qui stavo giocando con dei miei amici, che saluto, saluto Adredani, Alex97Killer, Manuelito, Messi, Bomber, Foxer, e TheGamo, miei compagni del clan, a parte quest'ultimo, che stavano giocando con me, comunque in questa partita, stavo usando, stavo usando, non mi ricordo proprio più, mi sembra la CR, e in questa partita chiamerò, sto usando il pacchetto ricompensa e assalto, un pacchetto molto, molto potente, molto forte, il quale, il quale, però, bisogna saperlo bilanzare, ad esempio, stavo usando, l'elio assalto, il pay flow, il mitragliere osprey, il mitragliere osprey, è proprio una belva, adesso vedrete, dovete scegliere, più o meno, appunto, dove dovrà stare, e sarà come un po', il supporto aereo, di Modern Warfare 2, molto più simile a quello, che è quello di Black Ops, però, è veramente molto potente, infatti, tra poco, vedrete una quadrupla, ecco, questi qui, quelli all'interno, farò una quadrupla, è molto carina, questo, è molto potente, ma se le usate, come le uso io, le serie di uccisioni, le avrete notate durante il gameplay, che farò fatica a chiamarle, perché, mentre ce le li assalto, il pay flow, lo puoi chiamare, ma ti arriva dopo, poi ci sarà il pay flow, e non potrei chiamare l'osprey, è un po', un po' adesso per usare, questo pacchetto, quindi vi consiglio magari, non lo so, un predator, una C-130, un mitragliamento, comunque, delle serie di uccisioni, che, che possono essere chiamate, contemporaneamente, e non, e non che bisogna aspettare, per chiamare la successiva, proprio, sono abbastanza potenti, poi queste, queste serie di uccisioni, una volta arrivati all'ultima, si riazzerano, però adesso, sto usando l'osprey, non sono ancora morto, eppure, non mi, non mi ripartono le uccisioni, perché, è comunque la serie, che avevo guadagnato, durante la serie, che stavo facendo, un po' complicato da spiegare, però, comunque adesso, quando inizio a fare le uccisioni, con l'arma, si, la serie ricomincia, anche se la partita, sta per finire, comunque, uccisione confermata, per chi non lo sa, si lo sapete tutti, bisogna uccidere le persone, e se raccogliete le piastrine, ottenete i punti, invece, se non le raccogliete, non le ottenete, una modalità, dove si fanno, si fanno, allora, viene detto, che si fanno più punti, però in realtà, è la modalità, che dura tanto, che dura poco, e quindi, si fanno più partite, e si fa meglio, niente ragazzi, per oggi, è finito, ecco l'utisore finale, cardio rivelatore, forse questo qui, è una squadra commessa, esatto, ma non lo conoscevo, la partita è finita, è un bel 38-0, su Seatown, vi lascio l'immagine, con i link, al vari, il canale, l'ultimo video, grazie per aver seguito, questo video, se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, e al prossimo video, ciao!